di un affinamento e questo è rimesso all'impegno degli operatori. Segretario, c'è grande conflittualità, come si può riaprire oggi il dialogo nelle scuole e con le scuole? Nelle scuole si può riaprire il dialogo guardando alla scuola come comunità. Quella bella comunità che ci è stata affidata dalla storia, dagli organi collegiali e che oggi vede chiaramente un po' un inasprimento dei rapporti. Probabilmente le regole che la buona scuola ha voluto inserire sono regole che vanno anche interpretate. Nell'interpretazione delle regole c'è un ruolo molto forte, quello della componente collegiale, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto, ma c'è un ruolo fondamentale, il rapporto anche con le organizzazioni sindacali. È un momento delicato, c'è una necessità, la politica deve porre alla scuola quell'attenzione giusta perché il dialogo sociale potrebbe mettere anche a sistema tutta una parte essenziale della riforma. Il contratto sulla mobilità è stata una dimostrazione, abbiamo potuto sottoscrivere un contratto, un'intesa con questo ministero che per alcuni versi ha aperto a una prima discussione. Oggi ci troviamo alla vigilia di un momento delicato, un'avvertenza per i dirigenti scolastici. Ci aspettiamo dal presidio del giorno 9, oltre a una grande partecipazione, un risultato perché c'è una ritribuzione che viene decurtata ai dirigenti scolastici. e dietro l'angolo ci sono tutte le materie applicative relative al bonus, alla premialità nelle scuole. Ancora una volta, il dialogo, la condivisione, la definizione di regole condivise a livello di istituzioni scolastiche e richiamate un po' da quella bella idea di concertazione che qualcuno ci vuole togliere ma che diventa sempre più necessaria in questo paese, sono i nostri obiettivi. La CIS Scuola è pronta ad aprire questa discussione. Nessun ostacolo pretestuoso, ma l'obiettivo di portare meno conflittualità nella scuola. Noi non abbiamo bisogno di conflitti. La scuola è una comunità educante, educa i ragazzi a non averne, non ne deve avere al suo interno.